si vanno definendo le composizioni delle liste alle prossime amministrative alcuni dei candidati stanno aspettando di formalizzare gli ultimi accordi è necessario infatti che liste simboli siano definitive e complete per procedere alle sottoscrizioni l'unico che in tal senso si è dichiarato pronto a partire con le due liste già chiuse il civico raffaele pesce gli altri attendono di capire fino all'ultima settimana se sono possibili aggiunte o confluenze sia tra le liste che tra gli stessi candidati indicati alla carica di sindaco al fine di andare incontro alle esigenze dei diversi schieramenti civici e politici anche alla luce dell'assenza in questa tornata elettorale di amministratori in carica in grado di procedere all'autenticazione l'ufficio elettorale del comune di agropoli ha predisposto un vedemecum operativo disponibile sul portale dell'ente per il comune di agropoli la dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata da un minimo di 175 ad un massimo di 350 presentatori i sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di agropoli nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista in caso di violazione sottoposta ad un'ammenda da 200 a 1000 euro i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a sindaco né della propria lista o candidatura né di altre liste o candidatura per la medesima elezione la firma degli elettori a norma di legge deve essere apposta su appositi moduli nei quali devono essere riportati anche il contrassegno della lista il nome cognome luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati il nome cognome luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori chiarite queste indicazioni generali l'importante precisazione sui soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni con i relativi richiami giurisprudenziali tenuto conto che la mancanza o la irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione è escluso che possano autenticare le firme consiglieri comunali di altri comuni o i pubblici ufficiali al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono sono pertanto competenti ad eseguire le autenticazioni i notai i giudici di pace i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali i segretari delle procure della repubblica i membri del parlamento i consiglieri regionali i presidenti delle province gli assessori e consiglieri provinciali i segretari comunali e provinciali e i funzionari comunali incaricati dal commissario prefettizio sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine che si chiama il mondo è un'ordine di appartenenza i consiglieri sono altresì che si chiama il mondo è un'ordine di appartenenza i consiglieri sono altresì Grazie a tutti.